Alcuni dei prossimi appuntamenti. Problematiche proposte contro lo sfruttamento dei migranti nel sud Italia nella sezione foggiana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Come la sanità pubblica potrà garantire a tutti i pazienti l'accesso alle innovazioni. L'incontro a Bologna a cura della Fondazione Gimbe. A Milano, settore biologico, moda, mobilità e turismo nella più grande fiera italiana del consumo critico, promossa dalla casa editrice Terre di Mezzo. A Parigi, l'Ox presenta i risultati del progetto per il potenziamento della politica e della burocrazia attraverso gli strumenti digitali.